Sessore Santoro, un sistema unico delle atere che è sempre più vicino ai cittadini? Sì, i numeri che oggi con la presentazione del bilancio sociale 2016 congiunto tra tutte le atere della Regione ha dimostrato come efficacia e ragionevolezza negli investimenti stiano connotando tutto il sistema. I livelli di efficienza sono importantissimi e quindi da una parte la legge regionale 1 con i suoi regolamenti, dall'altro lo stanziamento costante di risorse sta permettendo davvero di rispondere ai cittadini della Regione in questa parte delicata che è l'edilizia popolare cosiddetta.